Per dire no, noi abbiamo un sindicato che si chiama Sicobas, che difende la velarottore, siamo iscritti a un sindicato che ha ammirato la classe operai, la metà sono dei stranieri, che sono venuti qua per godegnare di pane, e allora che quindi questa azienda che volete fai del sacco del miliardo al giorno e paga tre euro, e questo è la schiaffi. Oggi siamo qua per dire no a Amazon, no al governo, oggi siamo proposti per gli altri diretti fino alla fine, e che operai che sono dentro oggi devono ebriare, e saputo perché questa manifestazione, per voi, non per noi. I operai sono operai come nei limoni, le esprimi e li butti, lavorano in Estria, lavorano in DHL, lavorano Amazon, lavorano GLS, lavorano a Bartolini, lavorano dappertutto, ma sono sempre schiavi, sono iscritti a CGL, sono iscritti a Sicobas, sono iscritti a quell'altro sindacato, sempre sono schiavi. Quindi noi perché siamo qui? Siamo qui, operai, non c'è bianco, non c'è nero, non c'è giallo, non c'è verde, operai ci chiamiamo, siamo una rassa, ci chiamiamo operai, quindi padrone, occhio, abbiamo aperto occhi, non ci futti più, quindi questo gioco si deve finire, operai si devono unire insieme, devono dire basta, sì che lavoriamo, ma non ci futti più, non ci freghi più, siamo uniti, non ti vogliamo, grazie. Questa azienda non è solo un simbolo, non è solo la bella facciata dei portali da cui con un click ti arriva a casa nel più breve tempo possibile quello che desideri e che hai il potere d'acquisto e il poter comprare. È anche nella materialità di tutti i giorni, è un luogo di grande sfruttamento, dove il capitalismo, laddove non riesce a sostituire i lavoratori con le macchine, vuole trasformare i lavoratori in macchine, pretende da loro per un salario che non è adeguato, per una paga che non è mai sufficiente, qualcosa che è al di sopra delle possibilità di ogni singolo lavoratore. Stiamo qua raggiungendo con Amazon l'appice dello sfruttamento inteso come la trasformazione della vita dell'uomo nel suo lavoro, cioè invece che il lavoro sia una nostra risorsa diventa una schiavitù alla quale si è attaccati e alla quale non si riesce a staccare perché i ritmi di lavoro, le condizioni di salario non ti permettono di fare altro che abbassare la testa e continuare a lavorare per quanto tempo e per i ritmi che decido il padrone. A quei lavoratori che vediamo lì vicino al magazzino, a quei lavoratori che vediamo là davanti ai cancelli per dire che oggi noi manifestanti, autonomi, antagonisti, sindacato Sicobas in prima fila, siamo qua per voi e per dare la nostra solidarietà alla non più tardi di sei mesi fa il ministro del Rio, del governo Renzi, era in tutte le televisioni italiane a dire che Amazon rappresenta un modello da imitare, a dire che questo è il lavoro che vogliamo per il futuro dei nostri giovani, a dire che grazie ad Amazon sta tornando la ricchezza del nostro paese e a dire guardate che dove c'è un magazzino di Amazon bisogna distruggere un'altra pianura, bisogna fare altre grandi infrastrutture su cui poi qualcuno magari ruba come abbiamo visto in Val di Susa. Questo è il modello che ha in mente il governo, questo è il modello che ha in mente il Partito Democratico, che ha in mente Salvini della Reggen Nord, che ha in mente anche i 5 Stelle, guardate, è tutto lo stesso modello, se ne devono andare! Sì, guardate, è tutto lo stesso modello, se ne devono andare! Sì, guardate, è tutto lo stesso modello, se ne devono andare! tutti quelli che sono venuti solo a dare la solidarietà oggi al lavoratore in ciopero oggi, perché l'Amazon non conosce che nessuno poteva avvicinare la loro casa, ma oggi la nostra presenza per dire all'Amazon da adesso in poi, se toccano i lavoratori dell'Amazon si parte tutta la logistica a bloccare i loro cancelli e le loro attività non interessa in Italia niente, oggi siamo qua con le delegazioni di realtà autonome, sindacato Sicobas davanti ad Amazon di Castel San Giovanni per portare la nostra solidarietà ai lavoratori sottoposti a uno dei sistemi di sfruttamento peggiori nel nostro paese, un sistema di sfruttamento basato sulla delazione rispetto ai propri colleghi di lavoro incentivata dai capi, un sistema di sfruttamento basato sull'illusione della stabilizzazione che sistematicamente non arriva uno sfruttamento portato da una multinazionale americana e che sino ad ora ha trovato soltanto governi come quello Renzi, proni e anzi felici di avere questo tipo di sfruttamento per i suoi giovani nel nostro paese, noi come Sicobas siamo qua oggi per dire che ci siamo e ci saremo e ci saremo con la pratica del blocco alle merci che è l'unico strumento utile per fare danno ai padroni, quella di oggi è solo una manifestazione, dentro di fatto Amazon sta praticamente lavorando, ma i lavoratori sembrano arrabbiarsi e ci seguiranno sulla pratica del blocco e con quella si otterranno davvero i risultati significativi che vogliamo per loro e per tutta la classe operaia di questo paese.